I film si arrabbieranno Ciao a tutti, sono Marta Sufio e benvenuti nella recensione del remake di Speak No Evil Come sapete, anni fa vi avevo parlato del film originale e a me non era piaciuto per niente Al contrario di molti, quindi opinione impopolare Oggi vi parlerò del significato di entrambi i film e noi discuteremo insieme Prima di iniziare, se vi vado a supportare il mio canale, potete farlo con un like, un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale, mi aiuta tantissimo Cosa ne pensate di questo look gontadina? Che capelli sfebradi, sì Potete supportarmi con un like o un commento, mi aiuta tantissimo E seguendovi su Instagram e TikTok Se mi seguite su Instagram e TikTok, mi aiutate un sacco E' completamente gratis, ma mi aiuta da una cifra Inoltre, se volete entrare anche voi nell'esercito di Chihuahua Io voglio diventare ricca così, ho un sacco di Chihuahua Tutti così da abbracciare e coccolare Potete farmi diventare ricca e realizzare il mio sogno dell'esercito personale di Chihuahua Daizzare contro tutti Utilizzando il mio codice su Pampling Pampling è un sito di maglietta a te macchine messi di tv Se utilizzate il mio codice, il codice sghicio Io ce ne prendo una percentuale, quindi Finiranno in cagnolini Ma iniziamo a parlare di Speak No Evil Questo video sarà una recensione, ma più che altro Un'analisi per quanto riguarda il nuovo film Perché adesso io vi dico che questo video Non è sponsorizzato, quindi non c'è avuto nessuna autorizzazione Posto di quello che mi pare Allo stesso tempo, però, io ho fatto una collaborazione Legata al film, non direttamente Per un'attività con Universal In cui Universal dà la possibilità di fare Delle anteprime solamente per i fan E quindi abbiamo visto in anteprime il film insieme In una sala privata degli studi di Universal qui a Roma È stato super divertente conoscervi Chi era presente all'anteprima sa una cosa Una cosa che non possiamo dire Ma... Wicked Io ne dico altro No, non abbiamo visto il film, ovviamente Però era una cosa dedicata all'inniere Magari avessimo visto il film E stavo già accanto a tutte le canzoni d'Ariana Grande Ma, quindi per dirvi, per chiarezza Che, insomma, questo contenuto non è sponsorizzato Però io ho sponsorizzato, diciamo, l'attività Non tanto il film Questo video non ha tanto a che fare con la qualità Un po' se seguite i miei video Noi analizziamo principalmente i significati del film E roba così E quando ci sono simbologie per quanto riguarda il film Che hanno a che fare con gender e roba così Rappresentazione mascolinità e femminità Per me sono super interessanti E quindi tutto questo video andrà a concentrarsi proprio su questo Ma iniziamo subito Il film racconta una storia molto molto simile All'inizio rispetto al primo film Ovvero una famiglia che va in Italia per una vacanza Uno c'è una ragazzina Uno c'è un ragazzino Se incontrano, se scontrano, diventano amici Poi ognuno ritorna a casa sua Se scrivono una letterina Dico, ma venite da noi Quelle frasi tipo Ma un giorno ci ribecchiamo Un giorno dobbiamo vederci per un caffè Poi se va mai niente Questa volta però il padre di famiglia Decide di prendere in considerazione questa cosa E andare a trovare questa famiglia Lì da James McAvoy Questi iniziano a fare un po' i maleducati E insomma le cose sfuggiranno un pochino da mano Perché? Perché come? Lo scoprirete Perché qui non si fanno spoiler Almeno che voi non rimaniate Fino alla parte spoiler Il primo film era tipicamente horror Anche se non era il mio genere di horror Detto proprio sinceramente Quest'altro film invece è più un thriller E secondo me sensatamente per via Di quello che hanno tentato di fare Ovvero un cambiamento dovuto Per quanto riguarda Tutta la questione culturale Ho fatto tutto un video sul perché Questo remake ha senso Per una traduzione culturale Ho fatto tutto un video dedicato E avere senso non vuol dire Che vi deve piacere Che bello è La mia sponsor ha a che fare con l'attività Tranquilli Se non vi è piaciuto Potete scriverlo tranquillamente qui sotto Io non è che vi contraddirò Tenterò di convincervi O ve cancello i convinti Rimangono là Come vi dicevo a me Il primo film non era piaciuto per niente Per niente Perché a me sinceramente Non piacciono quei film Che diciamo Giocano un pochino troppo su Vabbè Completalo te da spettatore Io voglio un'opera d'arte Che effettivamente Mi dà una chiave di lettura Tu mi crei questo mondo E mi dai quello per cui Qual è per quale motivo Io devo vedere questo film Cosa mi vuoi dire Se nemmeno vagamente me lo suggerisci Io ti direi Vabbè Se allora fai te Io veramente impazzisco Un po' come quelle opere D'arte contemporanea Tipo senza titolo Oppure il titolo Scegliete voi Senti ma va quel paese E quel quadro Che ha X sopra Come vi dicevo Perché il remake ha senso Il remake ha senso Per questioni culturali Il primo film Di che cosa parlava Parlava principalmente Di questioni culturali Legate alla Danimarca I due paesi sono molto connessi Quindi Quando mi arrivò Nei commenti Tipo tu non l'hai capito Il film parla Di cose in generale Nonostante il film apertamente Parla di una cosa Una delle frasi centrali È Perché voi ce l'avete permesso Che parla proprio Di quanto Siano passivi Determinate norme Culturali O determinati Tipi di società Che diventa Una cosa Pericolosa Diciamo Quasi una colpa Se essere così passivo Diventa la figura maschile Che è molto passiva Nel primo film Ma nel secondo film Si concentrerà Tutto proprio Sull'incontro scontro Di queste due mascolinità Come una Sembra quasi affascinata Dall'altra Nel film originale Si parla tanto Della società E di come sono Le società Nord europei Mi è arrivato Un commento Dicendo che Le società Nord europee Sono molto simili A Milano Al nord Italia No Cioè L'italianità Che abbiamo noi È una cosa Molto differente Siamo molto più Che invitiamo la gente Effettivamente Ci lamentiamo Urliamo da una macchina All'altra Per il traffico Le società Del nord Europa Non sono così Cioè C'è una Una questione Di spazio personale Spazio collettivo Molto differente Sono società Molto più Che vanno verso La collettività Piuttosto che L'individualità Come siamo noi Per esempio Del sud Europa O per esempio Gli Stati Uniti Sono proprio concezioni Differenti Che secondo me Sono molto più simili A L'est Asia Quindi per esempio Il Giappone Tutte questioni Di estremo rispetto Fino a che non diventa Quasi ipocrisia Questo estremo rispetto L'estremo rispetto Di non dirti No non voglio venire Ma diventa una sorta di Sì non lo so Ti faccio sapere Poi ci sentiamo Poi ne parliamo Diventa un'ipocrisia Quindi tutto si concentrava Su questo E questa figura maschile Totalmente castrata Che finisce per Mandare in rovina Tutta la sua famiglia È anche una situazione Differente Perché Società Danesi Le persone danesi E le persone Olandesi Come erano nel primo film Avevano tante cose in comune Gli olandesi E i danesi Hanno tante caratteristiche Simili A livello Proprio di Storia Della propria società Delle società Che hanno Una monarchia Che non hanno vissuto La guerra direttamente Da tanti anni Fortemente legate All'ambientalismo Alla collettività Un stile di vita Molto solo E tranquillo Tutta una questione Molto differente Di benessere Ma con piccoli cambiamenti Che ovviamente Un po' cozzano Il mio giudizio Sul primo film È perché Onestamente Era esteticamente Sciatto E costruito In una maniera Non abbastanza Da creare Terrore in me Poi se l'ha fatto con voi Sono super contenta In me Non ha avuto minimamente Questo aspetto Quindi io volevo O una storia O del simbolismo Più esplicito Oppure ancora Esteticamente Qualcosa di bello Ho trovato l'estetica Molto bella Solamente nella scena finale Ho trovato Il simbolismo Accennato Ma non abbastanza Per farmi Fare il passo oltre E quindi A me Per me è stata Insoddisfacente Questa cosa Io sinceramente Non so che problemi Ci siano Anche per Analizzare E capire dei film A me mi ha fatto cagare Cioè Come vi sottolineavo Ed sarebbe stato facilissimo Per me dire Non vuol dire niente Questo film E quindi È sciocco Vuol dire semplicemente Che devi essere Più educato Ma io vi ho dato Un significato Molto più profondo Molto più sensato E nonostante tutto Arrivano qua Persone Dico No non è così Stellina Il discorso Il simbolo Quello che dice un film Quello che vuole dire Sta nel film Se nel film Ci sono queste informazioni Poi Pure Te le conferma Pure il regista Ma soprattutto Ci sono nel film Quello è Tu devi analizzare Un film in base alla società In questo tuo prodotto Se tu vedi un film giapponese Su un bullo Un cafone Di una gang Che si mette Che ne so A soffiare il naso Su un treno Tu devi calcolarlo Non sul fatto Che a noi Non serve a niente Che fa ride Magari uno si soffia il naso Sul treno Ma lo devi calcolare Per la società In cui è nato Dove quel simbolo Non è un simbolo qualunque Ma il simbolo di In educazione Quindi fa di lui Un bull Che non rispetta gli altri Così vengono analizzati i film E spingere su No per me È un significato più universale Questo è proiettare Ed è anche i problemi Dei film Quando i film Non sono abbastanza chiari E a me Ha molto colpito Anche il fatto Che il secondo film Che secondo me Era quasi Molto palese Quasi proprio Boom In your face Come si dice in inglese Per il significato Tutta la figura maschile Da molti non è stato capito Il secondo film Hanno detto Ah non ha senso Il secondo film Può non piacervi assolutamente Il remake Ma punta tantissimo Sul farvi capire Oh La mascolinità De questo E de quest'altro Guardate E queste piccole differenze Di tessuto sociale Del primo film Dove è nato E da dove è prodotto Da dove viene raccontata Questa storia Hanno un significato Non si possono ignorare Per analizzare il film È vero che Alcune cose Tornano in entrambi i film Come per esempio I finti convenevoli La finta gentilezza Tanto che Come vi dicevo La frase centrale È perché voi ce l'avete permesso Come vi dicevo Per un popolo statunitense Non esiste Sono un popolo statunitense Che si basano Sull'andare Fatemi parlare Con il tuo manager Che non mi piacciono Queste patatine Ridatemele delle nuove Perché a me non piacciono Cioè È proprio un concetto Totalmente diverso Dove la lamentela Diventa simbolo Del farsi rispettare Anziché Dell'essere cafoni Quindi per forza di cose Non si traduce al 100% Poi ovvio Certe persone Dipende da persona A persona Assolutamente sì Ma il film è un mezzo Un prodotto collettivo Che va a puntare Non sull'individuale Come consumo Quindi che ne so Il libro Ma va a puntare Su una sala intera E su grandi budget Grandi Grandi riscossioni Di budget Quindi ovviamente Hanno fatto Degli spostamenti Di significato Per esaltare Quelle che erano Messaggi più Nazional popolari E in cui ti potevi Riguardare Per quanto riguarda Quel tipo di pubblico Tutto il discorso Sulla figura maschile E femminile E soprattutto Sulla mascolinità Un po' Che si sente Non più abbastanza Un po' lontano Dalle vecchie glorie Che ha il film originale Viene letto In una maniera Completamente differente Nel nord Europa Dove la parità Di genere È differente Dove c'è una parità Di genere Molto più ampia E dove ci sono O meno situazioni Brutte Dove non è difficile Trovare Cioè in Finlandia C'è stata La prima ministra Tranquillamente La presidente della Finlandia Era una donna In Italia L'abbiamo avuta adesso Con risultati Così insomma Che sì ok C'è una donna Però la politica Di innovazione Non può esserci Quindi o c'è la donna C'è la politica Arretrata Uno o l'altro Pillola rossa Pillola blu Quindi sono contesti sociali Estremamente differenti Per quanto riguarda Proprio La visione E anche Lo spazio Che viene dato Al femminile L'indipendenza femminile Cioè nel mondo lavorativo Come si gestisce La maternità La paternità Sono cose Totalmente differenti Quello che viene tradotto lì Come magari Un discorso Su una mascolinità Vecchia E nuova Viene anche gestito In una maniera Differente Perché non è Motivo di scontro Come lo è qui In occidente Con gli Stati Uniti Italia Poi se voi Personalmente L'avete letta In un'altra maniera La leggereste In un'altra maniera È la vostra Sfera personale Anch'io Non ho problemi A vedere Che ne so Un protagonista nero All'interno di un film Ma appena Nesce un trailer Con un protagonista nero La gente Se incazza E fa un delirio Quindi bisogna anche capire Che oltre La propria sfera personale C'è tutta una sfera collettiva Che reagisce In una certa maniera Proprio in base alla società Quindi in definitiva Sì I film Li capisco Alcuni Mi fanno schifo Ma iniziamo Dopo a parlare Del film Come vi dicevo Una delle cose Che ha in comune Con il primo È proprio questa Caratterizzazione Delle due mascolinità James McAvoy Già dal trailer Si vede che si punta Molto sulla sua mascolinità Un po' vecchio stile Un po' alfa Lui interpreta Paddy E da subito L'altro padre di famiglia Rimane fortemente affascinato Dalla sua forza Ci sono molte inquadrature Che apprezzano proprio Il punto di vista Dell'altro uomo Della famiglia Che quindi puntano su A farci sembrare Questa muscolosità Di James McAvoy Ancora più imponente Da subito viene dipinto Come un personaggio alfa Che controlla tutto In questo secondo capitolo Non ci sono Olandesi o danesi Si parla in giro Una coppia danese Qui se non sbaglio Quando sono in Italia Per poi riferimento Stizzidi Verso l'altro film Probabilmente Ma si tratta di coppie Londinesi Ex americani E di britannici Quindi tutta la parte Della convenzione sociale Viene abbastanza cancellata Naturalmente c'è lo stereotipo Degli britannici Maggiormente educati Rispetto agli statunitensi Però ecco C'è una differenza La famiglia Di James McAvoy Viene posizionata In un contesto rurale Che quindi magari Se noi andiamo a vedere La parte della Scozia Eccetera eccetera Gli stereotipi Sono differenti E anziché super educati Raffinati Vengono molto spesso dipinti Come degli zodiconi E anche la contrapposizione Cosinetta Di città E ruralità Fa capire maggiormente A un pubblico ampissimo Proprio questa differenza Che delle letture Tipo Ah vabbè Loro perché sono cittadini Quindi sono finti Quindi tutta l'ipocresia Dall'altra parte C'è la ruralità Quindi terra terra Quindi diretti Già nel primo film Si vedeva la fascinazione Del marito Che andava a trovare Verso l'altra famiglia Quindi qui abbiamo Patty James McAvoy E dall'altra parte L'altro padre di famiglia Che è fortemente affascinato Da lui Lui è subito molto affascinato Dalla figura Di James McAvoy È un uomo di polso Che controlla la sua famiglia Controlla la sua moglie E questa fascinazione È così palese Che in certi momenti Sembra quasi innamorato Tanto che addirittura La moglie Gli dice Guarda ma sembra quasi Che sia innamorato di lui La fascinazione di Ben Ovviamente non è Un'attrazione vera e propria Ma è l'attrazione Verso un potere Che lui crede di non avere Ben comanda la sua famiglia Purtroppo il motivo Per cui si ritroveranno In questo grande guaio E non scapperanno via prima È proprio per via Della sua passività Con gli altri Ma super potere Tossico con la sua famiglia La sua famiglia Vuole andare via Sua figlia vuole una cosa Lui non li ascolta Se ne frega altamente Tutti devono fare Come dice lui Allo stesso tempo Lui ha questo strapotere Che crea problemi Ma si lamenta Perché crede di non averlo Si lamenta di non averlo È così passivo-aggressivo In una maniera fortemente tossica Con la famiglia Con la moglie e la figlia Scusate che è un mare di pancia Quindi devo fargli un massaggio Sulla pancia Mentre registro il video Come vi dicevo Ben è un capofamiglia Estremamente debole È proprio per via di questa sua debolezza Con gli altri Mentre è in pericolo la sua famiglia Allo stesso tempo Lui si dipinge come una vittima E ce l'ha con la moglie Si lamenta con la moglie E dice Lei che vuole comandare tutto Lei che non vuole fare questo Lei che fa quest'altro Poi scopriremo Poi scopriremo che in realtà Non è proprio così È proprio l'intera famiglia Che è in balia di Ben E delle sue scelte del cavolo Semplicemente perché C'ha st'infatuazione Verso sto dizio Tutto quello che noi vedremo È Ben che sceglie E tutti gli altri Che dovranno Obbligatoriamente Fare quello che lui ha scelto Ovvero tutta la sua famiglia Lui sceglie di rimanere Con la moglie Nonostante tutto Sceglie di rimanere a Londra E Luis Sua moglie Dovrà cambiare la sua vita Deciderà di cambiare lavoro Lasciare tutto Lasciare gli Stati Uniti Per accontentarlo Ma nonostante tutto Nonostante l'intera famiglia Fa quello che lui dice Luis si dipinge come vittima Come colui che è oppresso Da questo strapotere Di questa donna Che gli fa questi torti giganteschi E qual è il torto Che Luis Fa a suo marito Ben? Qual è questa cosa Che gli toglie? L'unica cosa Su cui Ben Si potrà lamentare È l'intimità È la sessualità Luis non è una donna Stereotipata Come l'altra La moglie di James McAvoy È una donna che lavora Se James McAvoy Sua moglie Ha una differenza di età Molto più stereotipata Ovvero lui Molto più grande di lei Viene raccontato nel film Proprio quindi È una parte del film stesso Abbiamo lei Che si fa sexy per lui Loro che sono molto Divoratori Diciamo Della loro intimità E dall'altra parte Vediamo proprio Ben Che sogna Questo tipo di rapporto Di coppia Un po' più D'altri tempi Questa donna Che è sempre a acqua e sapone Ma disposta a diventare sexy Solamente per il marito Questo marito Muscoloso E questa donna minuta Che fa tutto quello Che lui vuole Una donna sexy Servile E sessualmente accessibile Quando vuole lui Quando Ben Vede tutte queste cose Per lui è quasi Una sorta di paradiso Affascinato da questa realtà comoda Da questa mascolinità Che ha tutto sotto controllo Che riesce a incutere timore Comanda Nonostante tutto È troppo stupido Che anche lui Ha esattamente lo stesso potere Ma in chiave diversa L'unica cosa che riesce a lamentarsi Per la moglie Come vi dicevo È il fatto che Non fanno sesso abbastanza L'unica sua lamentela È che la moglie Non lo fa scopare Non abbastanza come dice lui Ben Ha tutto uno strapotere Sulla sua famiglia Come vi dicevo È solo che è troppo stupido E fa decisione del cavolo E Ben Non solo come marito Non riesce minimamente A ricoprire questo ruolo In modo decente Ma non riesce nemmeno A essere padre Noi vediamo all'inizio del film Che si lamenta In una maniera veramente brusca Tanta di togliere Questo peluche A sua figlia Semplicemente perché È troppo grande Quindi ha deciso lui Che non deve averlo E anziché scegliere Una maniera tranquilla E anche un pochino Graduale Voglie togliere Il glielo di botto Con la forza Ben è forte con i deboli E debole con i forti Ben da subito Decide di essere Super passivo Compatti Appena arrivano Hanno questa accoglienza Molto spartana E per educazione Non dicono niente Perché è anche una cosa Classista magari Ma da subito Questa coppia sfiora L'ineducazione Quando decidono Di far dormire La figlia per esempio Sul materasso per terra Oppure Paddy Fa come cena Cucina una gallina Sapendo che Luisa è vegetariana E spingendola Ad assaggiarla E loro per semplice Disagio Per non sembrare scortesi Non dicono nulla Da subito Capiamo una cosa Che è abbastanza Spaventosa Cioè per assurdo Uno dei cattivi Di questa storia È Ben stesso Ben è veramente La minaccia Di questo film Lui non sembra Sentire un problema Nel fatto che Sua moglie E sua figlia Le due donne Della sua vita Vengono trattate Male Non gliene può fregare Di meno Perché a lui Questa situazione Piace E se Paddy Da una parte Rappresenta La figura patriarcale Tossica e violenta Vecchia maniera Ma che doveva Ricoprire una necessità Che c'era all'epoca Quindi in un contesto Rurale Dove quindi Serviva la forza fisica Servivano certe cose Eccetera eccetera Dall'altra parte Ben è la nuova Mascolinità Una mascolinità Perennemente Piagnona Che si sente Perseguitata Oppure se nonostante tutto Ha il potere Ma si lamenta Dell'unica cosa Che non ha Lo scopare Una figura Vittimistica Passivo-aggressiva Che crea Di problemi giganteschi Perché nonostante tutto È ancora a capo Del prendere decisioni Sono tutte decisioni Del cavolo Ben decide Di rimanere con Louise Nonostante lei Lo abbia tradito Tanto non è una parte Fondamentale del film Non tanto perché Vuole rimanere con lei Ma semplicemente Perché vuole Rinfacciarglielo Vuole avere Questo potere Di umiliarla Prendendo quindi Una decisione Quella di continuare A stare insieme E di averla perdonata Ma allo stesso tempo Vuole prendersi La libertà Della violenza Del farla sentire In colpa Quando serve Questa è la nuova Figura maschile Ancora immatura Concentrata su se stessa Che si sente perso Perché non ha più Quel ruolo Che aveva una volta In contesti Un po' più Spartani e rurali Non è più Il breadwinner Della famiglia Ma nonostante tutto Aver perso questa cosa Figura La sua inutilità E ha lasciato solamente La parte tossica Della sua figura Incapace di avere Un commitment Incapace di dare Priorità ai figli Rispetto ai suoi bisogni La figura rituale Che c'è Verso il finale Del primo film Viene totalmente Abbandonata Sia nel finale Ma anche prima Per dare spazio Per dare spazio A qualcosa Un pochino più Terra terra Diciamo Per noi paesi Che siamo un pochino Meno mistici Da una parte Torna anche Da parte di Patti L'utilizzo Di questi bambini Come era nel Vecchio patriarcato I bambini Non erano Delle figure Di cui prendersi cura Ma degli strumenti Delle braccia Che ti servivano Per arrivare A un obiettivo Che ti servivano Per mettere Il passo in tavola Mandarli a lavorare Per prendere soldi Oppure venderli Se erano femmine Per prendere la dote Ben quando si trovano All'interno di questo contesto Ignora totalmente Situazioni negative Che subito si abbattono Contro la moglie E la figlia E anzi Continua a vedere Questa vita Molto spensierata Come libera Dai telefoni Libera dalle pressioni Questo sogno ormai Di questo patriarcato Vecchio e tramontato Dove lui ancora Continua a cruggerarsi Non capendo Che non è all'altezza Neppure di quello Secondo me Questo secondo film È molto bravo Nel mostrare Questo tipo di patriarcato Rappresentato quasi Come un sogno lucido Da parte di Ben E per molti uomini Lo è ancora Sognano questo Vecchio patriarcato Dimenticandosi Tutte le ripercussioni Negative su loro stessi Del vecchio patriarcato Ovvero Sì Avevi questo potere Ma dovevi anche Essere all'altezza Di determinate richieste Questa mascolinità Deve essere all'altezza Sia a livello fisico Sia a livello così Altrimenti Tutti questi benefici Del patriarcato Non li avevi Loro invece Hanno questo sogno Bagnato Del vecchio patriarcato Una cosa ancora Molto attuale In molti uomini Che sembra quasi Un'attrazione Verso questi uomini Un'ossessione Verso queste fisicità Così alfa Così muscolose Che ha quasi Del senso erotico Cioè sentite Che ne so Andate nei forum E persone Che sono pilloline rosse Vedrete la descrizione Di altri uomini Soprattutto quelli Che ritengono alfa E piacenti Che ha dei tratti Quasi erotici Nella loro descrizione Quasi come se Avessero un'attrazione Di quel tipo Questa fascinazione Verso Quello che rappresenta La mascherinità di Patty In questo remake Secondo me È molto più esplicita E mi sorprendo Onestamente Che molti Non l'abbiano Minimamente capita Molto interessante Come le dinamiche Da setta Vengono messe in scena In maniera esplicita Nella remake La famiglia Mette sotto versione La famiglia Ospite Sempre di più Si prendono sempre più libertà Vedono fino a dove Possono arrivare L'obiettivo è semplicemente Metterli alla prova Vedere fino a dove Possono spingerli E quindi valutare La loro potenza Il fatto che Luis Invece Risponde a tono Ovvero la moglie Diventa un problema Per la famiglia Ma soprattutto per Ben Perché lui vuole fare una cosa E sua moglie Si permette di Contraddirlo Semplicemente perché Esprime un'altra idea E quindi tutto il sogno Del suo potere Luis lo mette Continuamente in dubbio E per questo Lei è il nemico Tanto che infatti Lei dirà Perché rispondi male a me Ma non riesci a rispondere a Patty Da qui insomma Inizia secondo me La parte spoiler Dove io voglio approfondire Maggiormente Tutte le dinamiche del film E vorrei farlo tranquillamente Il film ha una fine Differenza rispetto al film Originale E quindi ne parleremo La presa non è così Sconvolgente Quindi secondo me Potete sia vederlo Sia non vederlo Non è che vi cambia troppo Però io vi avviso Quindi siete pronti Per la parte spoiler Tra 3 2 1 Spoiler Il film critica anche Un'altra cosa Ovvero le classi più alte L'ipocrisia che colpisce Ben ma colpisce anche Luis Lei che dice di essere Vegetariana Gli animali Roba così Poi si mangia solamente Pesce Che sono anche quelli Diciamo Animali Ma è anche Un tipo di dieta Fortemente Diciamo Costoso E quindi porta proprio Come le scelte Che fa Luis Non sono scelte Idealistiche Ma sono scelte anche Di facciata Fine a se stesse Contraddittorie E possibili Semplicemente Per la grande Disponibilità economica Che hanno Luis non vuole Rimanere insieme a Ben Ben non vuole Rimanere insieme a Luis Però Luis Continua a rimanere con lui Alla fine sarà sempre Lei che prenderà la decisione E quando stanno per andare via Decide che si lasceranno Perché Ben Non riesce ad essere attivo Non riesce a prendere una decisione Almeno non sensata Ben decide di rimanere con Luis Anche quando scopre Che lei si era mandata Di messaggi sexy Con qualcun altro Non perché ama ancora lei Perché non si vede Uno straccio d'amore Ma Ben Non vuole occuparsi Della figlia Si rompe le scatole Vedremo che Non ha mai voglia Nel tempo di dare attenzione Alla figlia La ignora continuamente Le risponde male E quindi Gli serve Luis Per una semplice cosa Il ruolo di madre E il ruolo di servilità Poter comandare su qualcuno Il film appunta molto Sul tentare di farti sentire Sempre più a disagio Forse nel primo Era un pochino più efficace Questa cosa Questo secondo me È un po' più sulle dinamiche Da setta Nel tentare di spingerti al limite Fino a quando tu reagisci E questo film Secondo me Tanta anche un pochino Di giocare Con i collegamenti Nel film originale Con il figlio Il bambino Che hanno Quello con la lingua tagliata Che scrive delle cose Ipotizzo In olandese O in danese Non so così Avvezza Però vogliono fare un po' Uno strizzamento d'occhio Tipo Connesso all'altro film Se nel primo film Il tagliare la lingua Era più una cosa Ritualistica Il titolo Speak No Evil È tratto dalle scimmiette Non vedo Non sento Non parlo Da noi È trattato Anche qui Ovviamente C'ha una funzione Secondo me Però principalmente Funzionale Ovvero Questi bambini Se non parlano Un'altra lingua Possono raccontare tutto Tagliamogli la lingua Così non possono dire niente Eppure se scrivono Scrivono in un'altra lingua Nessuno li capisce Inoltre anche il nome Qui Ant Come formica Boh E mentre invece Nel film originale Si chiamava Bele Quindi Molto più ritualistico Riconoscimenti biblici Quello Però questa parte Così un po' Da rituale Mistica Viene totalmente Cancellata In questo film Nel remake Tutta questa voglia Della parte Diciamo Mascolina Di Ben Viene fortemente Citata Nel remake Tanto che si parlerà Tanto di cowboy Dice Tira fuori il cowboy Che c'è di te Ben dice Di sentirsi sminuito Dalla moglie Nonostante lei Abba fatto Tutto quello Che lui voleva Tranne una cosa Scopare più spesso Che quanto pare È proprio il suo problema Ma nulla di tutto ciò Sembra essere abbastanza Perché questa nuova Mascolinità Deve trovare A bere della sicurezza E senza di essi Ha solamente risentimento Verso qualcosa Che non sa Riesce a essere attratta Dal potere D'altri uomini Per cui non sembra avere Né idolatria Né tantomeno Attrazione Né tantomeno rispetto Qui c'è tutta L'insoddisfazione maschile Anche in un contesto Così fortemente Occidentale E capitalistico Dove ovviamente Per primeggiare Non basta più Essere nella media Bisogna essere Qualcosa di più Ben non è Un uomo Che celle In niente E quindi In un contesto Dove prima Bastava avere un buon lavoro Per eccellere O impegnarsi Adesso è molto di più Per quanto riguarda Le classiche richieste patriarcali E Ben è un fallito Visto che si parla anche qua Che ha perso il lavoro Ben crede Di dover ricevere di più Sua moglie Sua moglie che lavora Che va dalla famiglia Che è una bella donna Non sembra essere abbastanza per lui Perché non è abbastanza Canonicamente sexy Non è abbastanza Non scopa quando vuole lui Quando lui decide queste cose Lei non è abbastanza d'accordo Non è abbastanza passiva E questo rappresenta anche La nuova mascolinità Che tipo si stupisce Del fatto che l'uomo comune Non possa accedere alle modelle Dove l'uomo nella media Non particolarmente competitivo A livello sociale E lavorativo Si stupisce Che non viene venerato Semplicemente perché esiste E tutto questo si vede Sia nel film Ma come vi dicevo Lo dice esplicitamente Luisa Nel film Quando dice Tu sei sempre arrabbiato Per quello che pensi di meritare Questa visione di sé Che crede di poter decidere sul mondo Ma poi quando effettivamente C'è un briciolo di competitività All'interno di quel campionato Che crede di poter giocare bene In quanto uomo Si renderà conto Che la mascolinità alfa È tutta un'altra cosa E se vuole giocare Nel campo del patriarcato Lui non vale niente La frase che dice Luisa Tu sei sempre arrabbiato Per quello che pensi di meritare È esattamente secondo me Un nocciolo di quello che è Gli insal oggi Che credono di meritare Non lo so Cisal Bunchal Che gli scrive nel DM E dice Ti prego sfondami E roba così probabilmente Credono di meritare A priori possibilità lavorative Venerazione Quando in realtà Se la devono giocare E l'unica fascinazione Che riescono a avere È all'interno Degli uomini Che cellano Crendo anche questa Versione omo erotica Sinceramente Questa ossessione erotica Così Che non viene più Indirizzata verso le donne Ma diventa super presente Verso altri uomini Quegli uomini Che riescono a ricoprire Quella posizione dei sogni Che loro non riescono a raggiungere La cosa che è proprio il top Che fa tiltare la madre È quando vede La famiglia Quindi James McAvoy Così Che sta dormendo Nello stesso letto In mutande Con la loro figlia Una scena veramente Pericolosa Sotto molti aspetti Ma che anche qui Il padre Ben non riesce a capire La pericolosità Di tutto ciò Perché da uomo scemo Che non capisce Non capisce Nemmeno Non crede probabilmente Nemmeno Nelle pericolosità Dei predatori Per donne e bambine Loro se ne vanno Ma improvvisamente Si rendono conto Che si sono dimenticati Il peluccio Lui ha sempre odiato Quel peluccio Dall'inizio del video Dice alla figlia Te ne devi liberare Di qua di là Ma qui improvvisamente Decide di ritornare indietro Per prenderlo È una scusa Quella di essere Un bravo padre E tornare indietro Quando a nessuno Gli ne frega niente È una scusa Per tornare da paddi Anche lì Quando vengono beccati Lui non riesce a dire Che sono stati male È talmente assoggettato Da paddi Che non riesce nemmeno a dirlo E la moglie Lì sbotta Ben non riesce a sostenere Un confronto con paddi E tutto questo senso Di impotenza Che si rende conto Di avere Ben non lo sfogherà Solamente nella moglie La moglie e la figlia Hanno una colpa Quella di aver capito Le cose come stanno andando Comunicarlo a Ben Ben Maticamaticamente O non risponde O fa finta di niente O non capisce un cavolo Quando Luis sbotta Per dire Che non si doono permettere Di far dormire la figlia Lì nel letto con loro Arriva la storia Strappa lacrime E qui arriva L'altro tabù sociale Ovvero l'altra ipocrisia sociale Lui hanno fatto qualcosa Di sbagliato Ma l'ipocrisia sociale Nel non parlare Dei lutti Nel non mettere in bocca Diventa lì L'arma a doppio taglio Contro di loro La figlia Agnes Da subito Scopre qualcosa Perché il ragazzino Gli fa vedere le foto subito Quando vuole tentare Di raccontarlo alla madre La madre la censura Esattamente come ha fatto il padre Dice Non dirlo ad alta voce L'essere scortesi Denunciare qualcosa Equivale all'essere scortesi Ed è l'ultima cosa Che una donna deve fare Nonostante Louise Sia una figura attiva Oggettivamente Sta rovinando la vita Sua e di sua figlia Perché si è avvicinata E continua ad essere Soggetta a un uomo Totalmente inetto Che sta rovinando Le vite d'entrambe E sempre per convenzione sociale Educa la figlia Alla passività Che per la nostra società Equivale a una condanna Secondo me nel film Tentano di attuare Anche delle dinamiche Da setta Molto interessanti Ovvero quelle di urlare Quelle di fare cose Pericolose insieme Il concetto di gruppo Ah sei solo tu che non ti butti Eccetera eccetera Spingere verso la servilità Condannare se si risponde E andare verso L'umiliazione pubblica E collettiva Per vedere come Qualcuno reagisce O se la stessa persona Reagisce e si gira contro Perché Ben riesce così bene In questa cosa Perché riesce così bene Ad ubbidire Perché gli uomini Hanno questa fascinazione Nell'ubbidire Hanno questa mitizzazione Verso l'esercito La gerarchia Il leader Le dittature addirittura Quindi hanno proprio questa Fascinazione Scusate la faccia Deve arrivare Quindi hanno proprio Questa fascinazione Nella gerarchia E nell'obbedienza Cosa che ovviamente Per le donne Non è mai una scelta Ed è qualcosa Che molto spesso Si ritrovano A dover subire E quindi non gli piace Il film secondo me Molto chiaramente Parla di come gli uomini Abbiano rispetto Verso altri uomini Ma non verso le donne C'è l'attore Un'umiliazione Se fatta da altri uomini Ma l'umiliazione Per Ben È la moglie Che dice che scopano poco Ben non ha rispetto Per la moglie E la figlia Per la maggior parte Del film Ben secondo me Rappresenta proprio La frangia negativa Ed estrema Di questo periodo Ovvero questa mascolinità Che invidia È fantastica Su caratteristiche Mascoline Nostalgiche E non avendole Rendendosi sotto sotto Di non essere all'altezza Prova rabbia Verso le donne Che osano Dire a loro Contraddirli Il fatto che il film Parli così tanto Di mascolinità E femminità Che sia l'argomento centrale Lo si vede da una cosa Tutto cambierà In un momento Quando la figlia Fingerà di avere Le prime mestruazioni Come vi dicevo Quando il bambino Le fa vedere le foto Lei decide di Attirare i genitori Per parlare In una maniera Più Più Nascosta E se inizialmente Chiama il padre Non se la caga Poi dopo Chiama la madre E finge di aver avuto Le prime mestruazioni Per poter avere Della privacy Da subito Questo diventa Un argomento tabù E se prima Tutte le cose Utilizzate Secondo il genere Erano Diciamo Un tabù Contro di loro Questa è l'unica A loro favore Da subito Si vede proprio La stereotipizzazione Di Paddy Che non riesce a capire Nemmeno che cosa succede La moglie Gli deve spiegare Che quelle sono Mestruazioni Probabilmente E da subito Permette a loro Di stare soli Di parlare Perché uno dei pochi Tabù sociali Che ci sono ancora oggi Sono proprio Le mestruazioni Che ancora mettono Estremamente A disagio Gli uomini Diventano quasi Una cosa mistica Che non capiscono E che quindi Le spaventa E lo si capisce Dal fatto che Come vi dicevo Nella scena Si vede Paddy Che non capisce Inizialmente Che cosa sia Perché proprio Secondo il patriarcato Che lui rappresenta Le mestruazioni Sono qualcosa Di misterioso Fa paura Perché ha a che fare Con il sangue E proprio così Rimanendo da sole Lei potrà far vedere Tutta la madre Delle foto Di tutto quello Che ha scoperto Ed è scusata A livello sociale Nell'essere sconvolta Proprio perché ha avuto Le sue mestruazioni O almeno Così viene percepito Come normale Dei tabù sociali Il film ha diversi Momenti di tensione Perché come vi ho detto È maggiormente un thriller Ma esplode totalmente Secondo me nel finale Quando finalmente Prendono una posizione E se ne vogliono andare Salutano tutti Apro la macchina Stando per andare via E Paddy Butta il ragazzino Tentando di farlo A negare Nell'acquetta Là che c'è lì Da lì Arriva Inizia finalmente Il cambiamento di Ben Ben finalmente Si dà una svegliata Si lancia nell'acqua Per salvare il bambino Finalmente Fa qualcosa Da maschio alfa Ovvero Mette Da adulto Mette qualcun altro Prima di se stesso L'unica azione Non egoistica Che noi vediamo nel film Finalmente arriva L'emancipazione Il riscatto di Ben Finalmente Una mascolinità attiva E qui esce fuori E qui esce fuori il momento Un po' americano Ovvero scopriamo Che più che una roba Misteriosa Come era nel primo Loro facevano fuori La gente Gli rubavano i bambini Perché gli rubavano i soldi Una roba più terra terra Che secondo me Più nazional Popolare È molto più facile Che la gente Lo ritenga leggi Da qui abbiamo tutte le figure Da qui abbiamo tutte le figure Che diventano attive Sia Louise Sia la bambina La bambina Vede questa siringa Gli evogliono fa Prende Se la inguatta La nasconde Louise vede il suo taglierino Lo prende E poi sfreggerà Paddy Ma nonostante tutto Ben deve ancora Tirarsi su C'è una crisi di pianto Lei lo deve tirare su Lo deve spronare Fino a che Per educarlo Per farlo diventare Finalmente un adulto Finalmente diventa utile Ben E nel finale Lavoreranno tutti insieme Nonostante Ben Boraccio L'unica cosa che deve fare Molto spesso fallisce Deve lanciare una roba E non c'ha Va a quest'altro Gli dice male Ma la moglie Ha talmente Tante aspettative Perché già questo Vare oro colato Ben continua a rimanere Abbastanza oninetto Ma almeno scopre L'altruismo Scopre il senso Della famiglia Scopre il senso Anche di Diciamo Di altruismo Verso la figlia Si sacrifica Per la figlia Per i bambini Entrambi Infatti Quando cade la scala Lui si lancia Nonostante si spaccherà Qualcosa Pur di rimetterla a posto Per farli salvare Finalmente diventa Un genitore Scopre il sacrificio L'atto di coraggio Per i bambini Ovvero Una sorta anche Di mascolina Alfa Oppure semplicemente È entrato nell'età adulta Una delle cose Che mi è piaciuta Onestamente Molto del film Del remake È che Inizialmente La moglie di Paddy Fa No ma lui mi ha manipolata Io non c'entro niente Sono contenta Che non sia così Altrimenti secondo me Sarebbe stata una banalità Un po' bruttarella Un'altra cosa Che ho trovato Molto molto affascinante Nel finale Un altro dettaglio Che vi dicevo Anche qui Rappresenta E conferma Proprio il fatto Che il film Voglia parlare Di mascolinità Vecchio stile Ovvero Quando arriva Nel finale Paddy E vede la moglie Che è per terra Passata a miglior vita Prende la ragazzina E loro ipotizzano Che in realtà Possa farle del male Togliendole la vita In realtà Paddy dice No non le toglierò la vita Ci prenderemo noi L'uno cura dell'altra Ovvero Parla come per Prenderla come amante Quindi successivamente Come colei Con cui Insomma Farà questi misfatti Cosa che Magari potrebbe essere Stata anche la prima donna Non lo sappiamo Ma parla anche Di un fatto Di come Quella mascolinità Arretrata Sapendo Avendo l'informazione Falsa Che la ragazzina Avesse sviluppato Diventa Improvvisamente Un'adulta Ci sono ancora oggi Delle frange Abominevoli Di persone Convinte che Se una bambina Ha le prime mestruzioni Diventa un'adulta E quindi Può essere utilizzata Per farci i loro cavoli Di comodi Privati Ovviamente È una mentalità Assolutamente Aghiacciante Che dovrebbe rimanere Nel paleolitico Dove appartiene Però purtroppo Sappiamo che È più complicata La realtà E questo sarebbe Ovviamente Un futuro peggiore Rispetto alla morte Per Agnes Che Agnes Se ammazza Via è fatta È andata Mentre lì sarebbe Prigioniera Per decenni Per tutta la vita Probabilmente Qui non c'è il padre Che la salva Ma c'è Agnes Che si salva da sola Come quasi sempre Lei è la madre Per tutto il film E quindi Le inietta la siringa Di chetamina Che gli volevano Prima inietta a lei Cade e rimane per terra Ma è ancora vivo Lì arriva Il personaggio di Ben Fa fuori Paddy non lo finisce Sia perché magari Vuole dargli Una sorta di rispetto Quindi non far fuori Qualcuno Che è già immobile Oppure semplicemente Si è cagato sotto Potrebbe essere Qualsiasi cosa Qui c'è la scena Secondo me Più sorprendente Diciamo Del film Che è quella del bambino Il bambino Che è stato vittima Di questa coppia Per tutto il tempo Che quando vede Paddy lì per terra Noi non ce l'aspettiamo Va lì con una roccia E gli spacca la faccia In un impeto Di rabbia Abbastanza sorprendente Ma anche abbastanza Comprensibile Detto proprio chiaramente Il film si chiude Con questa scena Di loro Che stanno in macchina Dove la bambina Regala il peluche A questo bambino Una sorta di Finalmente È coerente con la storia Come l'hanno cambiata Quello che ho preferito Maggiormente io Di questo film Non è tanto il finale L'action Le esplosioni Ma proprio la possibilità Di dare una lettura A quello che stiamo vedendo E tutta la lettura Sulla mascolinità E il macismo Per me è super interessante Per quanto riguarda La cultura I ruoli di genere E per me onestamente Sono film molto affascinanti Mi piacciono molto Come analista Perché insomma Questa è la parte Che mi piace di più A me i film Più che guardarli Mi piace analizzarli Quindi proprio per questo Io l'ho preferito Però insomma Sapete che Il film originale Non mi era per niente piaciuto Ho dovuto pure Togliere il video Perché c'erano tutti Insulti sotto Ma questo era tutto Bamboli di casa Spero di avervi dato Una lettura interessante Del film Ma pure se non vi è piaciuto Io spero di essere Stata interessante io Nel caso fatemi sapere Se magari questa Analitività Delle riflessioni Ulteriori Se siete rimasti Qui lasciatemi ancora Qui sotto Un emoji Del coniglio Come il peluche E guardate Quanta lingua C'ha fuori Carrie Perché Carrie Non c'ha i dentini Praticamente abbiamo dato Il calcio Quando era piccolina Però non gli sono cresciuti Tutti i dentini Quindi la maggior parte Dei denti davanti Ce l'ha piccolissimi E la lingua Esce fuori Quindi io continuo A fare la massaggiatrice Dei pancini Dei carri Qua Fino a farla stare meglio E grazie mille ancora E noi ci vediamo Al prossimo video Guardate che Salsicce È proprio carina Proprio come le mamme Che sfruttano i figli Per farci le visualizzazioni Povera Carrie Col mal di pancino Grazie mille ancora E noi ci vediamo Al prossimo video Amore mio È sbuffato Tu sei stancata Ok ok Spengo le luci Sennò ti fanno male Gli occhietti Ciao Ciao